Compie 57 anni di carriera Loretta Goggi, showgirl, attrice, cantante, doppiatrice, conduttrice radiofonica e televisiva e prima donna imitatrice. Un talento completo, l'artista carismatica dai tanti volti che ha fatto la storia della televisione italiana. Bambina prodigio negli sceneggiati degli anni 70 riesce ad essere la regina del sabato sera, una cantante che firma successi, tiene a battesimo giovani talenti e inaugura nuove fasce orarie nei programmi che conduce. La sua carriera è un continuo crescendo, viene chiamata da Pippo Baudo per canzonissima nel 1972-73 e incanta con le tante imitazioni di Mina, Patti Pravo, Sandra Mondaini, Sofia Lorene e Ornella Banoni. E oggi quasi certamente sto con, sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia, accettare questo strano appuntamento, è stata una pazzia... Nel 1979 arriva la conduzione della prima edizione del varietà del sabato sera dal nome Fantastico, dove appare un Beppe Grillo appena debuttante. La bella voce di Loretta Goggi emerge però poco dopo, nel 1981, partecipa per la prima volta al festival della canzone italiana di Sanremo con Maledetta Primavera. Il brano non vinse, ma divenne una hit da milioni di copie vendute. Maledetta Primavera Maledetta Primavera Che freccia c'era Se portare solo a me Tornò su quel palco nel 1986, ma come prima conduttrice donna della Kermess, una gran bella soddisfazione che la portò successivamente a condurre ieri, goggi e domani. Il ritorno per i 50 anni di carriera è a fianco poi di Carlo Conti, prima come ospite ai migliori anni e successivamente è il ritorno definitivo in tv con una fiction e una nuova veste da giudice a tale quale show. Conclamata, eccetera. E questa volta non ci sono imitatori, per cui sarà veramente una bella cosa da vedere, perché sono tutti alla prima esperienza con le imitazioni. Tu mi parla, mi drea in mano in mano Ma se questo per te Non ne ho bene Mi sai, dici ero bene Che aiutai Sono tante le vite vissute sotto i riflettori da Loretta Goggi, che festeggia 57 anni di carriera. Loretta non è amata soltanto sul palcoscenico, ma anche sui social. Dovete sapere che la pagina Facebook, curata da Tina Giudice ed altri fan, conta più di 71.300 iscritti e si chiama Loretta e Daniela Goggi Fanpage. Poi c'è Loretta Goggi Facebook, con 50.962 e per un totale complessivo di 200.000 iscritti su Facebook. Un carissimo saluto a Tina, a Cosimo, a Roberta, a tutti quanti. E mi raccomando, se il sito si chiama Loretta e Daniela Goggi Fanpage, bisogna occuparsi solo di Loretta Goggi e Daniela Goggi Fanpage e non di altre persone. Grazie, baci grandi. Ironica e divertente, la sua incontenibile energia e il suo indiscutibile talento la rendono ancora oggi una delle artiste più apprezzate e più poliedriche dello spettacolo italiano. La prima volta era un re, ora è quello che è, ma assomiglia un po' a me.